Ciao a tutti ragazzi Io sono MkW Oh mio Dio Ma che cazzo What? Hola Hola Possiamo vedere qui Bell Grylls Super Saiyan Livello 2 Il mio nome è Bell Grylls E spiego anche il motivo Cioè semplicemente Volevo farmi qualcosa di diverso Mi sono fatto Bell Grylls Poi mi sono detto Cazzo Bell Grylls assume proteine Tramite la sua urina Giusto La sua urina è gialla E quindi Sono Super Saiyan 2 Senti ma Una logica nuova Ma come pensavi di fare Bell Grylls Senza l'effetto urina Cioè nel senso Come lo facevi a distinguere Oddio che domande complicate Cazzo è un cazzo di puffo Io sono un puffo Giuda Sono un puffo Come ti chiami Marpuffcron Sono pure bene Hola io sono Marpuffcron Hola io sono Marpuffcron No ok no Non suona bene cazzo Bentornati su Terraria E' un sacco di tempo Che tu non vedi Quello che io ho fatto Mentre Aspettivo che è sto coso Ho comprato un salvadanaio E' un salvadanaio Si è un salvadanaio Ma no Chiaramente non è un salvadanaio E' un porcellino A forma di salvadanaio Cazzo che bel porcellino Che mai ho comprato E guarda dietro il porcellino Ci sono due lette Ma basta veramente però E' molto capiente Cosa? Tu poggi Questo è tipo un È tipo un ender chest Ecco Ma non c'è niente Io non vedo niente dentro Non vedi niente? Cioè se No Prova a metterci qualcosa tu 7 stelle Ah ok E' personale Sostanzialmente Di questo porcellino Ce n'è un altro Alla farm Quella dei Degli squali Ah che lurdo C'è prendi il cash? Ecco i money 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 Eh si Ci mettevo dentro il cash E mi riempivo De stecche Queste qua Sbrilluccicose E' C'è un mister shank loader Eh no Non c'è Mi dispiace Più che altro Non posso Non posso far venire I mob senza la mia presenza Però Giustamente Allora qua Ho fatto lo spazio Per far crescere i fungozzi Ah quindi queste qui Te le posso rompere? Si 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 Allora no Non c'è gusto Vabbè Poi No Fuga mio Poi di qua Ho allargato Il coso della lava Però E qui c'è Polla Porco Figata Die Beccatevi questa Mamma mia Questo già c'era no? Questo qui Questo qui a sinistra Oddio lo sai Non mi ricordo Cioè a me l'hai fatto vedere Non so a loro Eh Beh sostanzialmente È un bioma della giungla artificiale Che ogni tanto Ti droppa qualche Cosina Simpatica E se ci ritorni dopo un po' Potrebbe spuntare Una spora della giungla E con la spora che ci fai? È un'armatura Chico Un'armatura E ogni tanto Spuntano i mob Che vanno a morire Dentro la La vozza Se ti metti lì In una pozza d'acqua E qui si è morto Un paio di volte Eh sì Perché purtroppo ci stanno Quegli stronzoni Che Ti addentano Come si chiamano? Vagine dentate Vagine dentate Proprio loro E questo è bellissimo Divertiti Che spettacolo Davvero posso? Sì 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 Guarda come rimbalzano C'è un verbe Che spettacolo Qui c'è una farm di mob a destra Eh sì L'ho fatta per non farli sponare qua dentro Muogliono tutti Che figata Mamma mia Da soddisfazione Guarda come rimbalzano bene E con queste qui che ci si fa? Ci si fa la pozione Quella che cura 150 Invece Cioè ma scusa ma Si rigenerano da soli? Sì sì Crescono da soli Ricrescono su questo bioma Fungoso Guardate Ah è proprio il bioma Che cazzo C'è un varme Guarda di qua è sponato un tizio Oddio La vagina Che schifo Guarda quante vergine A me neanche Neanche un chilo di vagina Oddio Oh 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 Si stanno guettando Attento Siamo senza armor Siamo senza armor È vero è vero Mettiamoci Per fare i cazzoni Sì Che ci fa lo zullico? Eh lo scheletro Apri le porte Purtroppo Guarda Ma davvero Guarda c'è lo slime Mone gigantesco Bello che stai incastrato Quindi adesso Facile preda Ok No Non c'è nobec Perché no? Un mangia uomini Morite Bastardi Quanta vita c'ho? Oddio Dai 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 Perché in server Laggano un pochino Dai 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 Dov'è la mia armatura? Vabbè vaffanculo Ah eccola Tun 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 Ma è timido sto glidoride infame Vien qua Figura barbina La pia maia No e muore da sola Cabro Cabro E perché? Perché va nella lava Come una torda Vieni qua Guarda come ricrescono Qui che c'è sta? Eh qui ti volevo far vedere il Dove ho trovato Quei funghi là Mi posso buttare in tranquillità? No non credo Cazzo l'ho già fatto Oddio Quanto stai Ecco infatti è morto Già Ok Geifer è tornato Subbat de merda Mazza Siamo proprio fatti de basta frolla Sì comunque abbiamo Una vita di merda L'armatura tipo dato Odis Lo sai che non mi ricordo se era qua Ah qui ho trovato un paio di statue Che ho ottenuto su casa Ah è vero c'abbiamo un rampino Yes Ah è vero io mi dimentico che si usa con H E E no ho mangiato qualcosa Cosa? Ho mangiato delle cose Aiuto E E E Eccoli 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 No 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 Mi stanno a mozzare Mi stanno a mozzare Mi stanno a mozzare Mi stanno a fa blind Ah gay Ge ultra gay No Pam pam Mazza la gente che c'è sta Vabbè insomma scopo di rimostrativo Questo qui è il bioma quello dei funghi Se tu vai in giro a rompere funghi Prima o poi ti troppa un seme del bioma dei funghi Cazzo quanto è florescente No ma è fighissimo Guarda i funghi giganti Oh bello Oddio è vero Sembrano quasi in 3D Grande prospettiva Eh eh È la profondezza Io rimango qua Dai sono davvero belli sti cosi No è fighissimo sto bioma Tutto fuo Ah i funghi considerati Ah grande notizia Grande notizia spoilerosa Il primo ottobre esce l'1.2 di Tavavia Ragazzi considera che io chiudo il canale principale e gioco solo a terra Anche perché pare bello sostanzioso Mamma mia della roba è incredibile Guarda E poi no 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 ho ricambiato idea lo riaggiorniamo Vabbè ha fatto il prezioso Si praticamente Io non riesco a usare il rampino con E Sono una pippa No manco io Oh die Broca uva No sono una pippa Ovo No Vabbè ci stiamo distraendo Oh prendi l'oro Prendi l'oro Come faccio? Ah posso usarlo così? Che ficato Certo è bellissimo Ficato Infatti in realtà la mia proposta per come sprecare le spore della giungla Sarebbe il rampino della giungla Che cambia? Come migliora? Ti dà tre braccia qui a grapparti Quindi praticamente ti fa tenere in bigo Cioè diventi un cazzo di octopus Si diventi octopus Precisamente octopus Che figa Cioè no diventi triple Cioè vabbè non ho niente la direzza Guybrush Possiamo vedere il moinei gold No il grabber gold Erkos de gold No 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 Ok Quindi non credo che ci sia un castiopeo Ah e nella chest Dorata dentro a quella zona che vi ho fatto vedere prima Ho trovato questo Fra guarda Che cosa? Addio Signori Aio Aio Aspetta Levamo il pvp Levamo il pvp Come se leva il pvp Dai l'ho levato io Scella Ok Allora signori siamo pronti Botte oramai No Botte 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 su bacco Senti prendi le pozioni ciccio Ce l'ho Ce l'ho No prendi le ingurgiche tale Ah quelle pozioni Si quelle pozioni Le pozioni per Cusco Cusco le sue pozioni Esatto Ok Quelle pozioni Si lo ingurgitate Ok anch'io Ragazzi Io chiamo Bocelli Cazzo Arriva Arriva Quando occhio Ah non vedi Lo guarda in cazzo Oh 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 Asciuccione Ma che cazzo morti A questo qui se lo prendi nell'occhio Tipo Troppo A nocino Gli viene un bruscolino Mamma mia regà Se gli diri una cipolla So cazzo Questo è un boss mai visto Oddio se gli diri una cipolla Oh cazzo Ma gli abbiamo tipo Già rotto il culo Ma che è già rotto il culo Sta in 17 E ho capito Stava a 2008 Ma questa è la sua prima forma Non è nemmeno Al 50% della sua potenza Senti io gli sparo con la pistola E gli faccio 40 dalle Ecco l'acqua Lo sta sbroccolato Mortacci se sta a cazzare Se sta a cazzare Ammazza quanto fa schifo Scusi ma lei dovrebbe andare Da un ingerista dentale Così è più difficile Da occhiolare Ah fra prendete un cappuccino No scusa Non ho più visto No aspetta Dai andiamo un corpo a corpo Andiamo un corpo a corpo Dai Ah chicco Devo provare il book Mi sa che c'ho De panna alla grande Il corpo a corpo Mamma mia Ti tiro una freccia empia Ah è vero C'abbiamo pure le empie frecce Ma che vuol dire empio Eh tipo Non sacro Muori Muori I bocelli dei miei stivali Cazzo quanto so tecno Anveni Cuore il cuore Sì 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 che cazzo c'ha dato Minerali demoniaco A me m'ha dato No a te t'ha dato No A me m'ha dato un cazzo Tu sei preso tutto Del droppone Sì 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 43 minerali demoniaci 43 sono buoni Che ci faccio Sono buoni Una bomba appiccicosa Sono buoni 43 Oh ma guarda le frecciose Che ci faccio Secondo me ci fai una cura Per la cecità Da chi devo andare Devi andare dall'infermiera Devi metti tutto il minerale demoniaco Dentro la gonna E poi spingi Fai avanti e indietro Caracolo ci ho cliccato E mi ha detto Smettere di sparare il mio tempo E mi ha piccato alla grande Se vede che il tuo materiale demoniaco Non è grande quanto il mio Devi andare da Belgrill Ce sto a parlare Allora Ci posso fare Dell'ottimo mattone demoniaco No forse Magari non è il caso E delle ovvie sbarre demoniache Ah vabbè Dove fai sbarre Facciamo la sbarra Come si fa la sbarra Con la fornace Però non ti posso Di ogni portatutto Vabbè lo so Mi intacco Assumo troppe informazioni Di minecraft Mi arregge anche Terraria Oh frecce 10 Ma che mi sappia per culo Sì purtroppo ne servono 10 Però ce ne dovremmo avere un pochino 10 Ah no aspetta aspetta Ce ne ho 27 anch'io Dei demoniaci Eh sì Quanti ce n'hai tu Che ti sono rimasto E hai rimanenza E 10 No a rimanenza De quelli stupidi Barbinosi Quelli No mi sono buggato Cinta Sto a capire Mi sono rotto No quelli Quelli piccolini Come si chiamano Ah No aspetta Ma te parli dei scaie Sì le scaie E ci ho manco mezza De scaie Ah ok a posto Allora vediamo un po' Tipo per fammi Oh Ma lo sai che tipo Forse non ci conviene No giusto per Eh le armature ci conviene No aspetta aspetta Il piccone questo qua Che però servono Anche la scaglia È in grado di essere La pietra infernale Sì E Dai a capire Che Che significa Dovremmo andare giù Nel fondo dell'inferno A farmare quel materiale Che è fighissimo È molto pericoloso Immagino la pietra infernale Esattamente Ok Inoltre questo qui Rompe l'ossidiana Sì cazzo C'è però davvero Una certa Dovremmo farci Un'armatura Siamo proprio povri Sì è vero Ci possiamo fare L'armatura Ma secondo me Non conviene tanto di questa Anche se è forte Ma bensì Oh ho pisciato Ma bensì Ma bensì Ma bensì Vediamo un attimo Se mi ricordo bene Stellina Stellina La totte si avvicina È impazzito Kaifer Riot Scusate ho visto una stella Ah ne ho collezionato 55 Di là giù Ma la faccio Rucasso Ho capito Stavo fermo A farmare Spade Non sciarate Allora La frusta Servono Una mi stress Fermate 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 Posso fare Possiamo fare le fruste E quindi Allora Non credo che Entendi il panino No 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 Senti guardi quanto ti dai Il cappello Dell'armatura demoniaca Di difesa Ok Ok Ah ma ce n'ho 22 Di sbarre demoniaca Sì Te l'ho tirata Ah ok Il cappello Mi dà Sei difesa E aumento Divento più veloce De corpo Ad andare a bagno Del 7% Sì 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 Allora considera Che noi Già potremmo fare Vediamo se la possiamo fare tutta No non la possiamo fare tutta Per un cazzo Senti faccia la frusta De edera Oppure c'è il chakram Che è buono Il chakram Sì È buono Artiglio di chakram Praticamente è tipo un frisbee È tipo il boomerang Certo che Berggrills Divento xina Cristo santo Che è vero C'è xina Vediamo un po' Eccolo qua Tieni fra Boom È demonico Cazzo sì 30 danni Corpo a corpo 11 possibilità Di critico Più 16% No Ti è uscito fighissimo Considera Io ce l'ho Perché fa 25 danni 5% possibilità di critico Ah Vedilo Eccate questa Boom Boom Vedi che figata Chiudiamo qui questa puntata Nella prossima puntata Vi sa che dovremmo sì Effettivamente Darci a procurare un'armatura Fica Ciao E poi guarda come puoi Decespugliare Oh che figata Eh Vado di sotto Distruggete tutte le piantine Non credo che siano Riprese tutte Spettacolo Dai Dai Ci stiamo equipaggiando Pian pianino Sì Penso che a breve Dovremmo uccidere Il mostrone Il mostro stronzo È il world eater Quello che ci darà Gli orb E il vermicione Schifoso Yes Ah Ma che sconfretta Dai Guarda che figli Ma boh ragazzotti Noi ci vediamo Alla prossima puntata di Terraria E beccammi Ciao E che bocelli sia con voi Ciao 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 Ciao